A causa delle condizioni meteocritiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi, la circolazione dei treni è ancora sospesa nelle tratte Vicenza-Padova, Vicenza-Schio fino a Cavazzale e Vicenza-Treviso da San Pietro in Gu. Lo comunica RFI sul posto presenti i tecnici della rete ferroviaria italiana. Prosegue quindi l'intervento dei tecnici e della protezione civile per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni alta velocità e Euronight possono subire cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi con un maggior tempo di percorrenza, fino a 150 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Vicenza-Padova, Vicenza-Grisignano, Cavazzale e San Pietro in Gu.